Zara Rotti, grande giocatrice, grande prestazione, ma purtroppo non è andata come si voleva andare. Cosa te pensi? Ovviamente questa è una partita importantissima per noi, nelle nostre corde, perché si sapeva che Salga era l'unica squadra che nel tutto il campionato non si è riuscita a vincere. Ci abbiamo messo l'anima, siamo stati lì. Il problema è che ovviamente loro, essendo una panchina molto lunga, alcuni campi si trovano, giocati assieme da tanto, e magari senza finire un po' più meno esperti, e purtroppo cercando di affrettare i maritini, per nemmeno fare i processi che erano abbastanza importanti, e che abbiamo lasciato la partita.